Sono stato richiamato presso il cerchio esseno dopo molto tempo. Presso questo gruppo, circa vent'anni fa, ricevetti da Amedeo un'entità che apportava pezzi del suo ultimo corpo fisico. In quella incarnazione Amedeo era trapassato a 16 anni. Materializzava pezzi del suo scheletro per abbattere la sua dipendenza da quel corpo fisico che lo teneva emotivamente legato alla condizione umana. Da Amedeo ricevetti, tramite il medium del cerchio esseno, una vertebra che poi il marito di mia cugina, un primario di ortopedia, disse essere una terza vertebra lombare, molto secca. Quando gli chiesi quanto tempo poteva avere la vertebra, il medico mi disse circa 300 anni, confermando i tre secoli di cui aveva parlato Alexander, la guida che coordinava l'attività del cerchio esseno. Mi sono così immerso di nuovo nell'atmosfera benevola di questo cenacolo, dove i partecipanti, dico una cosa semplice eppure per me molto forte, si vogliono bene. Sono certo che il volersi bene dei partecipanti sia essenziale per la lunga vita del gruppo. Infatti, i cenacoli storici come il cerchio esseno, che sono in continua attività da decenni, attraverso la promozione dell'insegnamento, dei fenomeni affettivi e dei fenomeni fisici, hanno come fine ultimo l'ampliamento del sentire di chi vi partecipa, e cioè il volersi bene, l'abbattimento della mente, dell'io, della personalità, dell'individualismo, dell'egoismo. Questa volta, nel buio totale, Alexander, una guida del cerchio esseno, attraverso il medium in trance, si è avvicinato prima a Daniele, un giovane ricercatore da poco ammesso alle trance, a cui era stato assegnato il posto accanto a me. Alexander ha materializzato per Daniele, nelle sue mani unite a coppa, una maschera africana. Poi la guida Alexander è passato a me e mi ha detto di unire le mani come in preghiera. Quando o anni fa ricevetti la vertebra, Amedeo mi aveva fatto invece unire le mani a coppa, dove l'apporto era caduto dalle mani del medium. Io quindi ho congiunto le mani in preghiera, anzi, più che congiunte, le ho serrate l'una all'altra, emozionato, come mi succede ogni volta che sto per ricevere un dono dai piani superiori di esistenza. Lentamente, pur tenendo le mani serrate, ho cominciato a sentire un volume che cresceva, tiepido, come la vertebra di anni fa, un volume che diventava mano a mano più consistente. Le mie mani, quindi, non potevano rimanere serrate per dare spazio al volume che cresceva sempre di più. La guida Alexander, intanto, commentava la materializzazione e diceva che tutto andava bene. Quando lo spazio tra le mie mani unite fu completamente riempito dal volume sconosciuto, che poi risultò essere un oggetto spesso nel punto più alto un centimetro e mezzo, Alexander si allontanò da noi e al suo posto cominciò a parlare la guida fisica Antonello, che subito apostrofò con il termine cittina, una ragazza che frequentava da molto tempo le riunioni del cerchio. Due ore dopo accendemmo la luce e potei vedere l'apporto che, anche se lo avevo palpato ansiosamente nel buio cieco della stanza, non ero riuscito a decifrare. L'apporto era questa maschera africana che a me e agli amici del cerchio esseno che in quarant'anni hanno assistito a più di quattromila apporti è sembrata molto bella.